Non ha senso, cioè non ha senso, non ha un cazzo di senso ragazzi, cioè non ha un cazzo di senso, ma che Roma abbiamo visto oggi, ma che Roma abbiamo visto oggi, una bella Roma, ma finalmente cazzo, finalmente, finalmente oggi ingoleata, oggi addirittura ingoleata, oggi gli piaceva, oggi volevano divertirsi, meno male, meno male, vi giuro vado in Portogallo, vado in Portogallo per trovare i Natali di Fonseca, io ve lo giuro, io ve lo giuro, dopo oggi io vado in Portogallo per trovare i Natali di Fonseca, se mi lasciano espadriare visto il virus, cioè se capisci un cazzo, vado in Portogallo, cioè, cioè, ma di che cazzo stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? A parte che in mezzo al campo, un loro giocatore nel primo tempo, forse si trattava di Petrizione, ha fatto un disastro, ha fatto veramente un disastro, eppure il portiere loro, Vigorito, non ha fatto niente di che, ma al di là di questo ragazzi, una partita veramente, veramente ottima da parte della Roma, Mkhitaryan fa una partita sontuosa, Kolarov sembra, sembra aver ritrovato la droga che aveva perso, Kolarov, Kolarov, ragazzi, oggi probabilmente è migliore in campo, ma anche, ma anche i due di difesa, ma anche i due di difesa, Smalling e Mancini hanno giocato un'egregia partita, mi viene da dire addirittura, mi viene da dire, che Bruno Perez, beh, non ha sfigurato, oggi Bruno Perez, ragazzi, la sua porchissima figura l'ha fatta, e poi, e poi, tu c'hai un trequartista, che in realtà è una punta, ma è un trequartista, Edin Dzeko, Edin Dzeko, io ho un giocatore che non riesco a capire, perché, una volta, gli edemo menà, poi la volta dopo, oggi, raga, spiegatemi, la Roma che fa tre sconfitte di fila, tre sconfitte di fila, per esempio, qualunque sconfitte di Roma, ci dava un pizzone qua dietro, e noi zitti, perché non potevamo parlare, succede che viene illecito, che viene da tre vittorie di fila, gli facciamo un culo grosso così, cioè, io non me l'aspettavo mai, ora, non dico che non mi aspettavo di vincere, nel senso che potevamo vincere, non è che noi siamo la spalla e loro erano la Juventus, anzi, quindi, nel senso, assolutamente, potevamo vincere, volevo vincere, cioè, la non vittoria mi sarebbe stata stretta e anche mi sarebbe roso parecchio il culo, io non lo nego, però, però, 4-0 in scioltezza, sinceramente, non me l'aspettavo, il discorso è che la Roma trova due gol, praticamente, bam bam, e poi, e poi, più che altro, il discorso, sapete qual è, che il Lecce, che il Lecce, secondo me, ha sprecato anche tanto, perché poi, le occasioni che aveva, non le ha praticamente mai colte, e sono contento, ragazzi, sono veramente contento, sono veramente contento, sono veramente uforico, ok, qualcuno dirà, beh, sì, che hai vinto con il Lecce, sono d'accordo, sono d'accordo, però, ragazzi, ma mettetevi nei miei panni, ok, a parte che ho mangiato tre punti all'Atalanta perché non ha giocato, quindi, e vai, e vai, non la fate giocare più che magari la riprendiamo entro fine campionato, ma, al di là di questo, non ho rosicchiato tre punti a nessuno di quelle sopra perché la Lazio ha vinto, la Juventus ha vinto, le altre non hanno giocato, però, ragazzi, cioè, voi pensate che il Napoli aveva vinto e bisognava lasciarlo a debita distanza, il Milan, comunque, ha perso due punti per strada e quindi noi riallunghiamo, cioè, sono più che contento, e poi la prestazione, oggi Mkhitaryan ha fatto un'ottima partita, anche Mkhitaryan, mi dismino, io non so che dire di Mkhitaryan, perché Mkhitaryan è un giocatore di quelli che, se, gli va, se, è in botta, se, non è spaccato fino al midollo, fino al bucio del culo, allora gli fa una prestazione di quelle che tutti levi le mutande, inizia a fare la sciarpata, non con le mutande, poi, ovviamente, vi lascio, vi lascio capire quello che volete capire, però il problema è che è spesso rotto, cioè, se a me questi mesi presenti mi dicono, voglio 30 milioni per Mkhitaryan, tu gli dai 30 milioni per Mkhitaryan, magari come giocatore pure sì, però, però per gli infortuni non lo so, perché poi quando gioca, ragazzi, è un giocatore straordinario. Sono contento per Under, sono contento per il gol di Under, sono contento perché è tornato a segnare Kolarov e non era affatto scontato che tornasse a segnare Kolarov, anche perché Kolarov ha fatto veramente, c'è avuto un periodo in cui era, sembrava finito, sembrava arrivato alla vecchiaia. Niente, ragazzi, sono contento, fatemi sapere la vostra in un commento qui sotto, mi raccomando di iscrivetevi al canale, qualora non l'aveste già fatto, grazie per aver visto questo video, buon shalalala e ne come sempre, ci vediamo in un prossimo video, ciao, ragazzi, ciao, ragazzi, mamma che meno male, godo.